Salerno, tragico scontro, morti due carabinieri a successo sulla strada statale, Valle del Sele tra Eboli e Campagna. Un SUV ha travolto la gazzella uccidendo due giovani militari di 27 e 25 anni, le lacrime del sindaco di Campagna, messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Smith candidato sindaco, un'offesa per Napoli, capo di Monte senza guida per la candidatura a Firenze del direttore del Museo Napoletano, Manfredi perplesso, De Luca attacca San Giuliano. Vicenda imbarazzante, stiamo assistendo ad un uso privato e rispettoso delle istituzioni. Armi e droga murata, scoperto il modello Caivano, il blitz dei carabinieri a Castellammare di Stabia, dove i clan hanno esportato la tecnica utilizzata dalla camorra al Parco Verde. Tre arresti, tra cui padre e figlio, sequestrati 25 kg di stupefacenti nascosti nelle pareti. Domenica gratis ai musei, nuovo successo in Campania e boom per l'appuntamento nella prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. Si puntò a confermare il record di marzo, quando negli scavi di Pompei si registrarono 20.000 presenze, primi bagni al mare. Il campo largo a Gioangaro, insieme per la nuova città ad Avellino, funziona l'intesa PD 5 Stelle, decisiva la mediazione di Piero De Luca, che dice c'è bisogno di aria nuova in città. Cubitosa, dei 5 Stelle conferma l'accordo di Avellino nel segno della trasparenza e della legalità. Eccoci ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. Cominciamo questa edizione con la tragedia avvenuta a Campania nel Salernitano. Due carabinieri di 25 e 27 anni hanno perso la vita in un tragico incidente. Ferite altre 4 persone, il cordoglio dell'arma dei carabinieri e delle più alte cariche dello Stato. Sentiamo. E di due carabinieri morti e di altre 4 persone ferite, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Campania nel Salernitano. Francesco Pastore e Francesco Ferraro, militari di 25 e 27 anni in servizio presso la stazione di Campania, hanno perso la vita a seguito di un impatto con un SUV. Un loro collega è ricoverato in condizioni serie nell'ospedale di Eboli. Ferite altre 3 persone di 18, 31 e 75 anni. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 3 autovetture. Da una prima e sommaria ricostruzione dell'accaduto, una Range Rover mentre percorreva la statale 91 si è scontrata con l'auto di servizio dei carabinieri. L'impatto è stato violentissimo. Pastore e Ferraro, che erano sul lato passeggero e sul sedile posteriore, hanno perso la vita sul colpo. Il loro collega, che era alla guida, è rimasto ferito in modo serio. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamieri militari. Alla guida del SUV c'era una 31enne di Campania, condotta nell'ospedale di Oliveto Citra insieme alla passeggera 18enne. La Range Rover, dopo l'impatto con l'auto dei carabinieri, si è scontrata con un'altra vettura, alla cui guida c'era un 75enne di Campania, che è stato ricoverato all'ospedale di Battipaglia per le ferite riportate. Sotto shock l'intera comunità salernitana per l'immane tragedia, sconvolta l'arma dei carabinieri, che attraverso il comandante generale Teo Luzzi ha espresso profondo cordoglio, vicinanza manifestata anche dalle più alte cariche dello Stato. A cominciare dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio Larussa, il sindaco del comune di Campania, dopo aver trascorso tutta la notte sul luogo dell'incidente, ha espresso il proprio dolore per l'immane tragedia, dolore che ha colpito anche le comunità pugliesi di Manfredonia e Montesano-Salentino, da cui provenivano i due giovani carabinieri. Un 42enne di Nocera inferiore ha perso la vita a Serre nel Salernitano in un altro incidente stradale. L'uomo stava percorrendo in moto la strada statale 19 in località Pagliarone. Quando è finito fuoristrada, il giovane che si trovava insieme ad altri motociclisti ha terminato poi la sua corsa in un oliveto accanto alla strada. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro. I soccorsi arrivati dopo pochi minuti non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto si è regato anche il sindaco di Serre, Antonio Opromolla. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica e comprendere appunto quanto accadere. Schmidt si dimette colpo a Capodimonte, rivolta nel mondo della cultura. Manfredi commenta a Maro una scelta che lascia perplesso. De Luca attacca San Giuliano, vicenda imbarazzante. Stiamo assistendo ad un uso privato e irrispettoso delle istituzioni. La candidatura di Eick Schmidt mi lascia molto perplesso. Con queste parole il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha bocciato la scelta fatta dal direttore del museo Errial Bosco di Capodimonte di correre per il centrodestra nelle prossime elezioni comunali di Firenze. Il direttore, ha detto Manfredi, avrebbe fatto meglio a concentrarsi su una missione importante come quella di continuare il lavoro fatto da Sylvain Bellengi. Mi preoccupa intanto il suo ipotetico rientro a giugno a Napoli da sconfitto. Non vorrei, ha sottolineato Manfredi, che la sua scelta e ciò che comporta fosse pagata da Capodimonte, dalla città, che invece hanno bisogno di un direttore a tempo pieno e in condizioni di dialogare con tutto il mondo istituzionale. Da metà aprile, dunque, Schmidt lascerà Capodimonte almeno fino a giugno, se eletto si dimetterà. E come Manfredi concorda, Vincenzo De Luca che dice non è accettabile l'idea di tenere in sospeso l'incarico di direzione della reggia. Un'offesa per Napoli, per la campagna, per il mondo della cultura. Esprimo, ha continuato il governatore della campagna, una valutazione fortemente critica per il Ministero della Cultura, che dopo la vergognosa vicenda del San Carlo propone oggi un'altra vicenda imbarazzante. Si ha la sensazione, dice De Luca, di essere di fronte ad un uso privatistico e rispettoso delle istituzioni. Difende invece la scelta di Schmidt il ministro San Giuliano. Chi critica questa scelta si muove contro un diritto sancito dalla Costituzione, commenta il numero uno del di Castero. Intanto Gennaro Acampora, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, ha aperto una petizione per chiedere la nomina di un nuovo direttore della reggia e del Real Bosco di Capodimonte. Armi e droga murate nelle pareti, carabinieri sequestrano 25 kg di stupefacenti, tre arresti a Castellammare dove i clan hanno esportato il cosiddetto modello caivano. La droga murata nelle pareti, il modello caivano, dove era già stato utilizzato un espediente simile, esportato dai clan anche a Castellammare di Stabbia. I carabinieri della compagnia locale, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno passato al setaccio il rione Savorito alla ricerca di armi e droga. Il risultato è oltre 25 kg di stupefacenti, due pistole e centinaia di proiettili. A chiudere il conto, un chilo di stucco, quello utilizzato per ripianare la muratura, in questo caso destinato a tagliare la droga. Si parte dall'arresto di padre e figlio nella cui abitazione i militari hanno trovato 121 panetti di hashish, oltre 12 kg di stupefacente con il logo Narcos impresso sulle confezioni. E ancora più di 2 kg di marijuana, 350 dosi di cocaina e 5 pietre della stessa sostanza, ma ancora da tagliare per complessivi 590 grammi. Ancora cocaina, già pronta per l'uso, due involucri per totali 552 grammi. In manette, anche un sessantenne. Nella parete di una camera della sua abitazione, i carabinieri hanno trovato due pistole perfettamente funzionanti e oliate e centinaia di proiettili di vario calibro. In casa, anche oltre 8 kg di marijuana, i 400 grammi di cocaina. Chiari i segni di una recente stuccatura. È evidente il vuoto interno alla muratura quando si batteva il manico di un martello contro. Le armi sono state recuperate e sequestrate. Sono tutte in carcere, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. Per il sessantenne, anche detenzione di armi. È boom per l'appuntamento domenica al museo. L'evento promosso dal Ministero della Cultura con l'ingresso gratuito nei luoghi di cultura nella prima domenica del mese. La campagna si appresta a bissare il successo di marzo quando solo il Parco archeologico di Pompei aveva fatto registrare 20.000 presenze. Molto bene anche nelle aree interne. Si prepara a superare il record dello scorso marzo la campagna per domenica al museo. L'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. È ormai tra le regioni dei grandi numeri con oltre 20.000 presenze registrate a Pompei che lo scorso 3 marzo ha ottenuto il primato a livello nazionale. Benissimo anche le aree interne al Teatro Romano di Benevento oggi particolare iniziativa con una rievocazione storica del popolo sannite e delle maschere gladiatorie curate dall'associazione Benevento Longobarda. Abbiamo fatto queste prime domeniche da febbraio ad aprile con vari step. Oggi affronteremo gladiatori e sannite l'obiettivo di far vivere il Teatro Romano ma nello stesso tempo di far conoscere la storia beneventano ha i beneventani e i visitatori che vengono a Benevento. Presenteremo equipaggiamenti militari e faremo dimostrazione di combattimenti sannitici perché appunto la prima figura di gladiatoria era proprio il sannita e all'inizio i combattimenti di gladiatori erano esclusivamente tra sanniti però alla fine appunto i romani hanno creato come dire uno show business diciamo così e noi spiegheremo appunto come effettivamente veniva realizzato e messo in campo questo show business. Benevento era famosa nel mondo Tacito nel quindicesimo libro degli analici racconta che a Benevento tributarono a Nerone dei grandiosi spettacoli immaginate un poco un anfiteatro di 30.000 posti riempito d'acqua dell'acqua del fiume Sabato con due navi dentro all'epoca l'anfiteatro era il doppio del Ciro Vigorito. Ad Avellino il campo largo dall'ok a Gengaro candidato sindaco che dice insieme per costruire una nuova città oggi sotto scacco per la questione morale funziona quindi il patto PD 5 Stelle anche grazie alla mediazione di Piero De Luca che spiega c'è bisogno di aria nuova sentiamo per vincere non basta sembrare uniti dobbiamo esserlo per davvero faccio appello ai giovani a tutte le forze del campo largo per costruire insieme una nuova Avellino Antonio Gengaro candidato sindaco del campo largo serra le fila dello schieramento dopo aver incassato la piena intesa di PD e 5 Stelle come candidato sindaco della coalizione allargata grazie al lavoro di mediazione di Piero De Luca che commenta ora bisogna costruire la squadra da Avellino c'è bisogno di aria nuova le forze della coalizione PD Movimento 5 Stelle sinistra italiana si può e controvento augurano la portavoce di Irpinia dell'area Schlein di poter svolgere nel migliore dei modi il mandato sicuri che lavorerà come ha sempre fatto per assicurare il bene della comunità dal canto suo Michele Gubitosa deputato irpino del pentastellati lo dice l'accordo di Avellino conferma come il Movimento 5 Stelle tenga al rapporto con gli altri componenti del campo giusto ieri pomeriggio intanto nella nuova sede di Galleria Mancini Aldo D'Andrea ha presentato ufficialmente la propria candidatura sindaco ad Avellino per la lista Unione Popolare per Avellino spero di essere veramente utile a questa città di impegnarmi per questa città che amo profondamente e che oggi vedo piuttosto malconcia innanzitutto c'è da ritrovare la dignità della città stessa dopodiché dobbiamo riscoprire il ruolo del capologo Avellino e capologo di provincia quindi dobbiamo marciare insieme Avellino e provincia dobbiamo farla crescere dobbiamo ridarle ordine pulizia e dobbiamo cercare impegnarci in tutti i modi di far crescere l'economia perché l'economia non è secondaria a nulla domenica con temperature estive in Campania in tanti in spiaggia per la prima tintarella codi agli imbarchi per le isole la costiera a Malfitano dopo il boom registrato nel weekend pasquale in Campania il trend turistico continua a far registrare numeri importanti dati sicuramente incentivati dalle temperature pre-estive che stanno caratterizzando questi giorni con punte di 25 gradi nelle ore più calde della giornata in tanti ne hanno approfittato per trascorrere una giornata in riva al mare e godersi la prima tintarella mentre i più coraggiosi si sono concessi anche un tuffo primaverile pienone agli imbarchi per le isole la costiera Malfitana mete gettonatissime per trascorrere una domenica fuori porta o qualche giorno di vacanza è bellissima la costiera poi è la nostra soddisfazione è la cosa più bella che abbiamo nel sud siamo diretti a Positano vado a festeggiare il mio compleanno con i miei amici e lei non festeggia senza di me quindi siamo amici i migliori amici perché una bella giornata come questa non si poteva perdere e quindi abitiamo a Salerno Amalfia diventa sotto casa praticamente si va in costiera o la Malfitana oppure la Cilentana che sono due costiere bellissime andiamo a fare una gita a Positano con degli amici a trascorrere una bella giornata Amalfia E' il giorno ideale per andare con amici e parenti in costiera a fare una bella passeggia da Positano un po' di sole un pranzo fuori e si rientra a Salerno E' bellissima è sempre la pena venire sempre oggi stiamo per Positano quindi iniziamo una nuova stagione e ci ha accompagnato questa bellissima giornata Valorizzare la città partendo dalla toponomastica è importante anche per rendere omaggio ai personaggi che hanno costruito la storia di Benevento così il sindaco Clemente Mastella all'intitolazione questa mattina di via Rosario Zeppa al quartiere Capodimonte Le strade della città per rendere omaggio anche ai suoi protagonisti è il piano dell'amministrazione comunale di Benevento che questa mattina ha intitolato una delle strade del quartiere Capodimonte al compianto medico Rosario Zeppa un omaggio doveroso per l'assessore all'urbanistica Molli Chiusolo che ha introdotto la cerimonia per la scopertura della targa cerimonia a cui ha partecipato l'intera famiglia Zeppa a ricordarne le doti professionali ed umane il sindaco Clemente Mastella stimiamo diciamo l'assetto della città con zone che hanno scoperto dal punto di vista della copertura per quanto riguarda i nomi di riferimento e poi dando lustro a personalità come nel caso del professore Zeppa che è stato un medico professionista di grandi capacità io stesso l'ho soffruito negli anni quando ero piccolo perché lui era di Montefalcone Valfortori io giocavo la squadra di Montefalcone quindi venivo come dire gratuitamente visti dal professore perché giocavo la squadra di Montefalcone perché lui come ricorderò lui non si prende da nulla dai poveri e da quelli del suo paese quindi invece di andare da categori quelli che erano affiliati al suo paese e quindi è una cosa molto bella che facciamo oggi Ad Avellino un incontro per ricordare tre figure iconiche della chiesa avellinese Don Ferdinando Renzulli padre Innocenzo Massaro e Don Michele Grella uomini di Dio e sacerdoti del popolo Don Ferdinando Renzulli padre Innocenzo Massaro e Don Michele Grella uomini di Dio e sacerdoti del popolo l'associazione Roseto e la famiglia francescana di Santa Maria delle Grazie li ha voluti ricordare con un incontro nell'auditorium del Roseto Sono coeve le tre figure hanno vissuto gli stessi anni questa città e hanno esercitato il servizio pastorale anche nello stesso periodo senza dimenticare che poi lo dirò questo nell'introduzione alla fine forse il focus su cui hanno appuntato la loro attività penso che siano stati giovani il sociologo Paolo Matarazzo ha un grande ricordo di Don Renzulli e del suo rapporto con gli ultimi un uomo della carità ma in silenzio un uomo che abbracciava abbracciava e un uomo che sapeva anche chiedere perché Don Ferdinando chiedeva per le sue attività pastorali dovunque si trovava chiedere anche dobbiamo comprare un armadio lo diceva in pubblico e questo era bellissimo ed era trasparente soprattutto quindi la visione di un prete trasparente leale con tutti e che tutti e tre voi e questo è un dato e chiudo sono morti poveri o quasi Teresa Colace della parrocchia di San Ciro deve invece tanto a Don Michele Grella Don Michele Grella per me è la mia esperienza di fede è la mia esperienza matrimoniale è la mia esperienza di maternità di insegnamento e di vita io ero una persona lontana dal Vangelo Don Michele me lo ha proposto mi ha affascinato mi ha coinvolto era il nostro ultimo servizio il Tg termina qui grazie per averci seguito vi lascio al meteo e poi vi auguro buon proseguimento con i programmi di 8 Channel a Don Michele Grella a Don Michele Grella